Campanella d'allarme per gli infortuni sul lavoro. A lanciare l'appello è l'Anmin, l'associazione nazionale mutirati invalidi sul lavoro, che a breve si prepara a celebrare la sua giornata nazionale. I dati, attualmente disponibili solo a livello italiano, parlano chiaro. Gli incidenti in ambito lavorativo sono in aumento, lo conferma il presidente Anmil Sondrio, Emilio Giacomelli. Abbiamo avuto un incremento dell'1,3% degli infortuni sul lavoro e 1,5% dei morti. Ci dicono che l'Istat sta aumentando, l'Istat dice che c'è la ripresa economica, noi ce ne eravamo accorti, purtroppo già l'avevano detto in tempi non sospetti. Non andava bene enfatizzare il calo degli infortuni in momenti di crisi, purtroppo adesso stanno crescendo. Certo non aiuta la precarizzazione del mondo del lavoro. Un fenomeno su cui l'Anmin ha sempre avuto una particolare sensibilità. Stamane presso la sala consigliare della provincia è stato firmato un protocollo d'intesa di validità trennale riguardante la formazione dei giovani nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Fra gli attori in campo, prefettura, provincia, ufficio scolastico, attiesta della montagna, INAIL, ispettorato del lavoro, confartigianato, BIM e appunto ANMIL. Questo è un protocollo d'intesa che abbiamo firmato questa mattina, oltre al progetto che poi abbiamo presentato, importante soprattutto perché il protocollo firmato con gli enti e con le istituzioni, detta delle linee guida a cui tutti poi dovranno adeguarsi per una più corretta formazione. Linee guida che hanno permesso di perfezionare il progetto scolastico sicuro in azienda, che fino ad ora ha coinvolto 12 istituti e 5.500 studenti. In programma, corsi di formazione, relativi alla sicurezza, indispensabili per gli stegisti che intraprendono il percorso di alternanza scuola-lavoro, stabilito nella legge della buona scuola. Utili altresì per le imprese che risparmiano così sui corsi di formazione obbligatori. Questo ci permette che tutti gli enti pubblici si armonizzino sul fatto di poter collaborare, poter darci delle regole ben precise su come lavorare all'interno delle scuole. Poi teniamo conto che la collaborazione che hanno i confrattigianati ha portato avanti con tre soggetti privati per andare poi a fare quella formazione base all'interno delle scuole, è importante perché in questo momento noi stiamo facendo, oltre che cultura, anche proprio formazione ai ragazzi stessi e ci permette in qualche modo anche di poter avere una collaborazione sempre più duratura e forte col mondo della scuola.